dunque amici di hd magazine motori siamo sulla tuizi una vettura che abbiamo imparato a conoscere completamente elettrica eroga una potenza che ci consente di raggiungere gli 85 km orari in questa versione 80 noi ovviamente non le raggiungeremo per una questione di codice dobbiamo andare da corso como fino in viettore ponti quindi siamo a milano e siamo diciamo partiamo dal centro e arriviamo quindi periferia ce la giochiamo contro una bicicletta elettrica guidata da un ragazzo che purtroppo ecco scusate il pavia milano una costante da un ragazzo che purtroppo non ha più grande fisico io nemmeno perché altrimenti non stare alla guida ma stare pedalando e adesso vediamo chi insomma chi ce la fa arrivare prima bene amici di hd magazine motori parte la nostra sfida sono motorizzato voi non ci crederete sembra che io sia su una bici in effetti sono su una bici ma ho anche 0 25 kilowatt di potenza in un motore elettrico quindi come con scuola twizy anch'io sono green in questo momento come su attuizy anch'io due posti quello dietro però tiene fino a 20 chili è un seggiorino da bambini luca mi spiace tu pesi circa 25 chili ottimisticamente quindi non ci stai non ti posso portare in giro e quindi vai di twizy stiamo dribblando bici stiamo dribblando tavolini dei bar attenzione a non fare un frontale con il signore e vedremo chi vince questa sfida che stiamo geotaggando col gps luca non barare la tua pizza può arrivare a 80 chilometri all'ora ma secondo me tu non rispetterai il coice della strada e col cavolo che resterai sotto i 50 comunque io più di 25 non posso fare la mia bici a pedalata assistita è limitata elettronicamente a questa velocità massima tipo lo scuso lo scopo dietro allora vediamo un po di fregare andrea noi adesso proviamo andare dritto purtroppo hanno tolto l'area c per problemi di garage in centro una strada che non avremmo quindi potuto fare con una macchina normale ma che oggi possono fare tutti noi ci passiamo in mezzo perché siamo un veicolo elettrico ci lasciamo alle spalle questi scooter che fanno abbastanza rumore acceleriamo fino ai 50 e poi stiamo costanti è una sfida più ironica che seria ma ha il suo perché perché con la twizy ovviamente possiamo evitare area c anche se in questo momento è disabilitata ma verrà abilitata al più presto mentre luca non può fare ovviamente zone pedonali a traffico limitato io con la mia bici a pedalata assistita lo posso fare lui a 13 kilowatt io non 0 25 sotto sedere ma lui pesa 450 kg beh non lui anche se sembra ma la sua twizy la mia bici elettrica pesa solo 25 kg tutti si mettono a guardarci e fanno un casino allucinante evidentemente la gente non è perdita per le ferie ancora in città speriamo l'autobus voi non vedete che forse adesso la diretta è dietro di me eccolo lì l'autobus in realtà dovete sapere che questa vettura in una città come milano è davvero l'ideale perché non è grande come roma milano ci consente quindi l'autonomia di 80 chilometri di riuscire andare in giro senza dover ricorrere a ricariche insomma frequenti adesso siamo in piazza castello stiamo cercando di impiegare meno della bicicletta elettrica di andrea anzi vediamo a che punto è noi tagliamo per il centro luca ha dovuto per forza fare una via un pochino più lunga e poi è verde possiamo passare tanto pavè ma non preoccupatevi al pari della twizy anch'io delle fantastiche sospensione sospensione anteriore e reggisella ammortizzato per me di sospasso molto traffico stamattina purtroppo con l'area c disabilitata anche in centro si rischia di fare qualche coda secondo me luca non riesce a svicolare è sicuramente imbottigliato è sicuramente imbottigliato è una favola non c'è neanche tanto traffico e poi riesco a svicolare tranquillamente l'unico mio problema sono i semafori rossi non che andrea tu non ti fermi i semafori rossi per carità di dio però puoi tranquillamente buttarti sui marciapiedi superare ostacoli persone passeggini bambini eccetera eccetera io allora cerco di scattare un pochino più agilmente e di venirti via ma sono ancora in piazza castello però perché ho scelto la bici elettrica ma per tutto perché mi muovo tanto in centro tra eventi conferenze stampa cantieri e chi più ha più ne metta mi muovo fondamentalmente a milano quindi la scelta di una bici è secondo me vincente in una città che è praticamente tutta pianeggiante è piccola è radiocentrica e perché la bici elettrica ma fondamentalmente perché è miglior sul fatto di arrivare sempre tra pelate sul lato dei clienti eccoci a cadorna chissà andrea che stroda sta facendo sicuramente quella sbagliata che non gli consentirà di vincere io dribblo ancora moto scooter eccetera eccetera lavori al lago e filo di cadorna una delle strutture più controverse di milano adesso entro in via carducci provo a accelerare un attimo faremo via olona via solari e dovremmo esserci perché è abbastanza rapido e verde dribblo lo scooter della posta dribblo la moto dal cinquantino che fa più rumore di un early davidson e mi sbatto in via carducci il galeazzi sarà ampiamente in ritardo io lo so già dribbliamo una suora ci abbiamo fatta adesso prenderemo delle fantastiche viette del centro ecco la bici mi consente di poter ammirare le bellezze delle città guardate che bella milano in questa fantastica giornata di sole ecco milano forse un po troppo pavè per i miei gusti perché tutto il centro è in pavè e proprio per questo ho dovuto scegliere una bicicletta con la forcella ammortizzata se no non arrivavo dai clienti trafelato ma rincoglionito devo dire che in questa versione 80 la tuizzi riesce a darci anche garanzia per quanto riguarda la possibilità di restare protetti perché abbiamo le portiere dalle di gabbiano senza ovviamente finestrini che ci consentono di essere parati dagli schizzi purtroppo abbiamo davanti una moto scorregetta di rebelio insieme alle storie tese che non ci consente forse di farci sentire chiaramente magari non la sentite vi invidio in questo senso perché fa davvero un rumore e poi lascia giù dell'olio che è uno schifo totale questa media 25 km all'ora media massima perché tutti così non va ma devo ingegnarmi a crackare il software di questa centralina per farla arrivare un po più in alto ci sopra una moto no aiutando la pedalata sono arrivato bene a 28 km all'ora ma così la sfida non sarebbe più valida quindi io faccio il corretto e faccio finta di pedalare lasciando al motore l'assistenza per il mio movimento ecco c'è la fine di via carducci superiamo il taxi e stiamo per entrare in via olona andiamo via abbastanza tranquilli per il momento poco traffico a milano in questa fine estate andrea intanto sarà sicuramente mettendo a posto la catena che lì sarà lì si sarà rotta e adesso ci apprestiamo ad arrivare nei pressi delle colonne di san lorenzo ritrovo preferito dai giovani alternativi milanesi avete visto un percorso praticamente tutto in centro adesso ci allontaneremo un po' del centro perché l'arrivo via Ettore Ponti è posto in una zona un pochino più periferica rispetto alla partenza ma nulla di drammatico controlliamo il nostro GPS abbiamo fatto 3,5 km a una media di 35 km orari media che sicuramente Andrea non riuscirà mai a raggiungere nonostante abbia una bicicletta elettrica siamo più o meno a metà strada del nostro percorso purtroppo qui però c'è una coda abbiamo superato il tram che ci avrebbe rallentato siamo stati fortunati e via di sfida sempre a 25 km all'ora che è una voce direi ottimale per le vie di Milano un altro semaforo abbiamo perso due minuti che alla lunga potrebbero pesare sul nostro viaggio però riportiamo da Via Repapiniano diretti sempre in via Ettore Ponti zona Santa Rita Milano stiamo combattendo contro una bicicletta elettrica Andrea secondo me in questo momento non potrebbe averci superati ma ora noi abbiamo la possibilità di usufruire di una strada molto più scorrevole rispetto alla sua quindi tutto il vantaggio che dovrebbe aver accumulato tagliando verso il centro potrebbe dissiparsi non dicevo dissiparsi dal tema della terza media credo finalmente il pavete tra poco dovrebbe finire così anche il vostro mal di testa a guardare questo filmato potrà finire continuiamo a girare io adesso giro in via Savona grande la signora con il carrello della spesa molto sound of 70s brava Asciura eccoci qua via Solari sempre tagliamo per via Savona la Movida Milanese tra lunedì mattina quindi il Marfi è chiuso gli altri locali pure il signore ci guarda con delle cuffie imbarazzanti siamo più portati noi a guardare lui fregati corriere che sta consegnando siamo fermi e adesso siamo sui navigli questo fantastico angolo azzurro azzurro acqua trasparente acqua pulita sui navigli bellissimo scorcio di Milano ancora pavè che palle anche il taxi che si ferma di fronte a noi supero queste vetture ferme al semaforo ci passo fortunatamente e me ne metto in pole position perde e andiamo superiamo via Bergognone siamo in via Savona pochi chilometri dal nostro punto di arrivo pensionati che fumano sigarette ci guardano come se fossimo arrivati da Marte è un feeling che imparerete a incontrare spesso guidando questa Twizy se ne avrete l'occasione se andrete a comprarla poco più di 7 mila euro il prezzo di vendita ve lo ricordiamo poi ovviamente le porte, le portiere anzi ali di Gabbiano sono degli optional e finalmente entriamo in un'area pedonale sto perdendo secondi preziosi mannaggia Luca spero che tu sia fermo a un semaforo ok area pedonale per noi lungo il naviglio bella letta fresca bellissimi negozi e adesso ci addentreremo in vie poco conosciute anche ai milanesi anche a me fino a poco tempo fa perchè l'ho scoperta per caso vie dietro ai navigli molto molto belline un giorno o l'altro faremo un servizio su Milano perchè non la ama chi non la conosce eccoci qua, vie argelati abbiamo rischiato un frontale con una signora che stava pulendo il marciapiede benissimo, eccoci qua questa è una via veramente bella, tranquilla arriviamo abbastanza rapidi siamo sui 45 km orari potremmo spingerci fino a 80 ma come ho già detto più volte stiamo rispettando i limiti come facciamo sempre nelle nostre prove o quasi Luca avrà sì 80 km d'autonomia con la sua quiz ma io ne ho ben 50 con la mia bici elettrica quindi posso andare anche io un po' dove voglio ricarica in tre ore per lui ricarica in tre ore per me ma voglio dire lui consumerà due euro farà una ricarica io qualche centesimo affianchiamo una smart al semaforo signori siamo a quattro semafori da traguardo e adesso da qua via ponti è tutta dritta spero nel vento favorevole sempre 25 km all'ora in realtà in questo momento sto andando a 28 attento 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 fammi passare grazie non farmi schiantare siamo sul ponte di via calo troia abbiamo superato il naviglio sotto di noi naviglio grande abbiamo scelto via vettore ponti non a caso ma semplicemente perché sappiamo che lì il lunedì c'è il mercato orionale quindi altro traffico in aggiunta per la mia tuizzi mentre invece andrea dovrebbe avere vita semplice quinta sesta ovviamente ho sei marce il mio cambio shimano altro che cambio col valli variatore altro che senza cambio come la tuizzi un bello shimano pogliato dovere fa sa sempre su bel perché attenzione anche una strettoia davanti a noi invietore ponti oltre al mercato rifanno l'asfalto hanno avuto tutto agosto e lo stanno facendo solo adesso bella idea proprio oggi che dobbiamo fare una gara nei limiti contro una bici elettrica mannaggia un rosso qua stiamo intercettando la circonvallazione quindi dobbiamo fermarci eh sì dobbiamo proprio fermarci pensavo che il mercato ci avrebbe messo più pressione invece evidentemente il fatto che non siano ancora ricominciate le scuole lascia Milano ancora un po' vuota quindi in conseguenza anche il mercato non ha grossi pieni ci siamo facciamo passare un pedone eccoci qua e noi siamo arrivati siamo arrivati e chiudiamo ve lo faccio vedere subito vado a bloccare il mio tempo in 15 minuti 42 secondi con una media di ehm 27 km orari Andrea hehehe bene siamo in vista di Ettore Ponti questo sottopasso ci ha consentito vista la pendenza di arrivare a 29 km all'ora adesso su in salita ritorniamo a 25 km ottima l'assistenza del motore di questa bici elettrica tra l'altro bici elettrica da me acquistata due anni fa per scherzo su ebay pagata nemmeno tanto 450 euro con batteria a litio una bici elettrica della Beghelli che non ho mai trovato in commercio in nessuna parte che però mi ha dato grandi soddisfazioni devo dire che in due anni e mezzo si è rotto solamente un particolare una stupidata ho chiamato la Beghelli la signora Anna Maria che ringrazio pubblicamente mi ha mandato il pezzo di ricambio adesso dovrò cambiare la batteria inizio a sentire un po' l'età l'autonomia è un po' scesa ma con questa bici ho fatto circa 8-9 mila km in città e non è cosa da poco bene il mercato Luca sarà rimasto imbottigliato nel mercato grande 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 notizia eccoci qua Ettore Ponti siamo arrivati stop il mio cronometro mi fermo mi fermo in una posizione dove io possa non dar fastidio andiamo un secondo sul marciapiede eccoci qua ci fermiamo in Ettore Ponti mercato alla mia sinistra controlliamo il timing 16 minuti e 26 secondi vediamo ci fermi ci fermi ci fermi